Ma mi hai detto anche una bugia. Si dispiace. Ti deve dispiacere molto perché a me piacciono le persone oneste e che hanno il coraggio delle proprie azioni. Credo che tu sappia quanto io tengo alle regole e alla disciplina. All'inizio dell'anno ho dato delle regole molto precise e i ragazzi si devono tenere alle regole. Tanto più i miei. Io prendo più grande responsabilità, prendo più responsabilità per le mie azioni. Qualche risposta, ho capito. Io ti levo il telefono per una settimana. Se scopro altre infrazioni, il provvedimento sarà veramente molto più grave. Non guardo in faccia nessuno su queste cose. Grazie. 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 Grazie.